Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono qua per parlarvi di dei prodotti che io personalmente sto amando tantissimo in questo periodo e quindi non vedevo l'ora di dirvi questa cosa sono dei prodotti dei provenzali che io ho anche nel mio negozio Carlita Shop infatti come potete vedere sto giusto andando in negozio mancano pochi minuti alle 4 e mezza che è l'orario in cui apriamo il pomeriggio quindi devo andare ma faccio a volo questo video perché veramente ve ne volevo parlare tantissimo è una nuova linea che è uscita da pochissimo, è una novità assoluta contro la cellulite, contro le smagliature penso che questo sia il periodo migliore dell'anno veramente per prenderci un po' cura di noi e migliorare il tono della nostra pelle eccetera io veramente sto ritrovando molti benefici da questi prodotti e la cosa bella è che hanno un costo molto contenuto perché sapete che i provenzali è una marca molto economica anche se comunque i prodotti sono veramente validi, naturali, biologici, vegan, tutti certificati comunque hanno un costo contenuto ecco perché infatti ho voluto inserirli nel mio negozio più altra ragazze vi ricordo l'evento che ci sarà domani giovedì 22 giugno proprio a Caritas Shop faremo l'evento con le pizzette e i panini napolitali di Pachito quindi venite così potremo passare una giornata assieme e poi questa settimana saremo aperti tutti i giorni anche domenica sempre dalle 9 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 tutti i giorni compreso sabato e domenica vi aspetto questa linea a tarasso di cui ho anche tutto il Deppiant non è tutta presente di solito nei suoi mercati ma a Caritas Shop il mio negozio la troverete tutta perché io l'ho presa dal primo all'ultimo prodotto perché secondo me è proprio valida e appunto è composta da vari prodotti che adesso vi faccio vedere che io ho usato e che quindi vi posso dare la mia recensione super positiva sia dal punto di vista degli ingredienti perché sono tutti naturali sia dal punto di vista dell'utilizzo perché funzionano benissimo allora il primo prodotto è uno scrub corpo scrub corpo sempre al talasso quindi tutti questi prodotti contengono i sali del mal morto sono prodotti ricchi di estratte ad esempio di pocastano, di centella tutti estratti che contrastano la cellulite prevengono e combattono la cellulite e anche le smagliature quindi sono fantastici questo è uno scrub veramente bello che è proprio piacevole da fare perché non ha dei grani troppo grossi quindi non ti graffia la pelle però ha un'azione molto molto tonificante sulla pelle senti che quando lo fai il microcircolo si attiva e la pelle è proprio compatta, soda e fresca quindi è proprio un piacere utilizzare questi prodotti soprattutto in questo periodo dell'anno dove vuoi anche utilizzare prodotti freschi e avere quella sensazione di fresco addosso perché fanno bene anche per migliorare appunto il microcircolo quindi sono fantastici e questo scrub io lo utilizzo sotto la doccia con movimenti circolari dal basso verso l'altro anche sul punto vita quindi gambe, cosce, glutei e punto vita un po' dappertutto mi lascia la pelle morbida, compatta e soda lo amo follemente poi dopo lo scrub viene il fango che io non faccio tutte le volte che faccio lo scrub cioè lo faccio così lo scrub lo faccio ad esempio un giorno sì, un giorno no invece il fango lo faccio tipo tre volte a settimana e mi piace tantissimo la cosa bella di questo fango a parte il profumo, a parte che è piacevole funziona tantissimo perché senti proprio la pelle fresca proprio un effetto freddo, tonificante, bellissimo già appena lo togli vedi i risultati vedi la pelle più bella più compatta senza la buccia d'arancia con i pallini quelle cose si toglie con i buchini i pallini con i buchini si toglie tutto agisce in 10-15 minuti perché è una formula potenziata quindi io adoro questa cosa perché odiavo fare i fanghi perché dovevo stare tipo un'ora invece in 10 minuti già funzionano si seccano ti puoi sciacquare e sono veramente fantastici e poi il top del top è questa crema ragazzi che cosa non è questa crema è fantastica io questa la uso tutti i giorni ecco vi sto dicendo anche la routine e i periodi come le utilizzo poi ognuno ha le sue esigenze chi ha maggiori esigenze per esempio io fra un mese devo andare in vacanza ho un mese di tempo per rimettermi in sesto ho un mortacellulite ovviamente farò il fango tutti i giorni farò lo scabo tutti i giorni ecco chi invece magari ha un livello di cellulite inferiore può fare il fango ad esempio due o tre volte a settimana però la crema io vi consiglio di metterla sempre tutti i giorni perché la crema è quella che voi applicate poi con anche lo scrub con il massaggio però la crema è quella che vi rimane addosso io ad esempio preferisco metterla la sera dopo la palestra faccio 10 minuti di massaggio da basso verso l'alto con movimenti circolari gambe, glutei punto vita anche qua le maniglie dell'amore un po' dappertutto infatti qua dice glutei fianchi e cosce io la metto dappertutto è veramente bellissima ti senti fresca tonificata ti ricompatta tutto è bella e funziona veramente proprio per ridurre la circonferenza coscia infatti anche sul depianti c'è scritto che appunto riduce la circonferenza coscia oltre a questo questa è proprio una crema urto cioè meglio di questo non c'è nulla è dentro se guardiamo soffermiamoci a guardare giusto l'inci di questo perché poi sono tutti completamente naturali a base di olio di sale completamente naturali se guardiamo questo ci sono tantissimi estratti ragazze contro la cellulite cioè è fantastica ci sono estratti di chigelia africana estratto di spirulina veramente c'è macadam olio di macadam tanti anche olio essenziali sono veramente buone come creme per il prezzo che hanno sono buone e funzionano quindi io ve le straconsiglio poi vi dicevo oltre a questa c'è anche il gel drenante effetto freddo che secondo me è un altro prodotto top che io personalmente non ho perché l'ho dato a mia sorella sono molto generosa e regalo le cose a mia sorella comunque anche lei sta provando questa linea e mi sta dando conferma del fatto che funzionano gel drenante effetto freddo è veramente fantastico ragazze è praticamente un gel che quindi è anche piacevole magari per chi non ama la crema anche se vi posso dire che questa crema ha anche il beneficio di essere molto leggera si assorbe in fretta è leggera non ti lascia uto quindi è fantastica però a volte è anche piacevole utilizzare il gel quindi anche questo qua ve lo straconsiglio è un'azione stimolante e defaticante anche sulle gambe gambe gonfie i capillari è molto tonificante e appunto è super drenante quindi vi elimina tutti i liquidi in eccesso e vi dà questa sensazione di freddo di piacevole sul corpo che proprio d'estate è fantastico anche questo qua vi consiglio di utilizzarlo tutti i giorni perché è veramente ottimo e poi oltre a questo un'altra cosa strafiga è questa qua che è l'olio multiattivo contro le smagliature le cicatrici la secchezza l'invecchiamento cutaneo questo è fantastico cioè un olio ricco è stra ricco di oli vegetali di estratto di spirulina vari estratti alga bruna vitamine che è fantastico contro le smagliature quindi è veramente ottimo come vedete questa linea è completa sia per le smagliature che per la celulite ma non solo c'è anche una super chicca che è una crema per il seno e per l'interno braccia cosa fantastica per noi donne voi mi chiedete spesso un prodotto che possa tonificare il seno l'interno qua del braccio che è brutto no quando è cadente e questa è fantastica ragazzi costa anche poco ed è veramente buona deve essere applicata questa qua con movimenti circolari ovviamente lenti non bisogna essere troppo aggressive sulla zona del seno e sempre circolari dal basso verso l'alto e anche qua sulle braccia io la metto anche sul collo personalmente comunque ti senti che ti rassoda e ti ricompatta tutto quindi è fantastica anche questa è molto piacevole nell'utilizzo anche questa qua ti dà questa sensazione di freschezza non ti lascia unuto io queste qua le uso sempre ogni giorno in accoppiata cioè mi metto questa qua sulla zona da qua in giù e questa qua da qua in su quindi le uso sempre ogni giorno in accoppiata e se voi volete anche utilizzare un prodotto per le smagliature vi consiglio l'olio che vi ho fatto vedere prima e magari lo mettete sotto a queste creme li applicate prima all'olio nelle zone dove avete le smagliature ad esempio vi consiglio smagliature si fanno sulla pancia sotto ai glutei quindi sul sedere un po' qua anche si fanno le smagliature massaggiate quest'olio e dopo vi mettete la crema sopra così si assorbe tutto e avete fatto trattamento anti smagliature e anti cellulite al bacio fantastico e poi non dimentichiamo lo scrub e il fango ragazzi perché aiutano tantissimo il fango vi rimodella il corpo poi vi ho detto 10 minuti e vi sciacquate non è una palla non bisogna stare tanto tempo però fatelo almeno un paio di volte a settimana fatelo perché veramente vi modella il corpo ed è fantastico in questo periodo dell'estate va fatto perché è proprio un completamento anche se voi magari mangiate sano fate palestra come me comunque cerco di mangiare sano e di allenarmi comunque di mantenermi in forma ma comunque questi sono prodotti come se voi li faceste anche in un centro di bellezza un centro benessere dove si fanno i fanghi scrub i massaggi fatelo imparate a farlo da solo così dispalmiate con questi prodotti che sono veramente veramente validi e veramente il vostro corpo diventa più bello e si modella si elimina la cellulite si snellisce si scolpisce quindi io ve li strano consiglio di provarli ma la chicca più chicca di tutte e voi dite ah ma questo ok perché io quando sto a casa faccio il fango faccio lo scrub ma invece poi quando vado in palestra quando andrò in vacanza come farò a portarmi questo dietro tattarata figata delle figate oh mio dio guardate qua questa è una cosa troppo figa perché voi vi potete comprare queste bustine e ve le portate dietro e così praticamente occupate meno spazio e c'è anche un impatto ambientale minore rispetto al contenitore sono bustine piccoli quindi ve le potete portare dietro anche se ad esempio in palestra io veramente in palestra mi sono portata a volte anche il barattolone però magari se è una borsetta piccola ti porti questi qua e sono molto molto comodi oppure semplicemente magari volete provare prima di comprare tutto il barattolone volete provare prendete una bustina c'è lo scrub il fango tutto in dose ad esempio questo qua lo scrub è 4 dosi il fango sono 2 dosi quindi non è proprio per una volta e sono buonissime ad esempio lo scrub vado ti vengono voglia di usarlo anche tipo come antistrezzo sembra tipo lo slime non lo so è bellissimo c'è dentro la menta piperita il cipresso è completamente naturale è veramente fantastico e poi il fango vabbè uguale a quello che vi ho detto vi ho fatto vedere prima uguale a quello del barattolo uguale e poi ragazzi c'è anche questo che sono i sali da bagno questi sono troppo troppo buoni e vanno messi appunto nella vasca da bagno per rendere tutto il bagno tonificante rinfrescante praticamente sono i sali del marmotto arricchiti dalla menta piperita dallo essenziale di cipresso e da altri ingredienti che sono fantastici appunto per combattere la cellulite quindi già quando lo mettete nella vasca da bagno oppure ad esempio vi fate un pediluvio mettete i pedi dentro già così stimolate il microcircolo e va andate a contrastare la cellulite già quando state nel bagno quindi ragazzi cosa dirvi io promuovo al 10 per 1000 questa linea veramente fantastica la adoro tanto conveniente economica buona di qualità è veramente una bellissima novità per quest'estate quindi mi raccomando provatela e mi raccomando venitemi a trovare a Caritas Shop al mio negozio così sicuramente la troverete tutta perché ho fornito tutti tutti i prodotti ci sono tutti anche alcuni che non vi ho detto adesso ci sono perché è una linea grandissima e troverete qualsiasi prodotto per le vostre esigenze e per migliorare il vostro corpo sia per la cellulite per snellire per le sbagliature c'è tutto quindi vi aspetto per consigliare il prodotto adatto a voi vi aspetto a Caritas Shop vi mando un bacio a te se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like tolla line through the stars I hope this night will last forever oh ain't nobody loves me better makes me happy makes me feel this way